Alessandra Moroso, bentornata sul Music Italia. Grazie mille, sono sempre molto felice. Senti, l'Arena di Verona per te rappresenta molto. Tu che ricordo hai della prima arena e cosa è cambiato rispetto a oggi? Allora, devo dire che il primo incontro con l'Arena di Verona è stato traumatico. Avevo molta paura, molta ansia. Diciamo che poi l'approccio è sempre stato migliore fino ad oggi, che sono molto emozionata e sono molto felice. Decisamente sì, anche perché dieci anni di carriera, anche un palco di questo tipo, credo che ti abbia dato comunque tanto. E poi ricordo in particolare un certo concerto dopo una certa trasmissione, dopo un grande successo. Ecco appunto, è stata veramente dura nel senso ritrovarsi qui dentro, perché è come se fosse una bomboniera dove dentro c'è un'emozione differente. Non so come spiegare, non si può spiegare, solo chi forse riesce a vivere queste situazioni può capire. Però è molto emozionante per me essere qui ogni volta. Senti, Mambo Salentino, il tuo nuovo singolo con i Bundabash, diciamo un'unione anche di quella che è la vostra terra. Sì, siamo terra, amicizia, famiglie, tutti insieme. E cantiamo, ci divertiamo cantando. Grazie mille, buona musica, a presto. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a te, ciao a tutti.